Prima di iniziare il video andiamo ad ascoltare l'inizio di questa canzone che si intitola «Milleuno Adventures». «Ten years of thrilling, we've been rocking and rolling, keeping the fire burning, from the highest seats to the lowest stars, we've captured every moment, every adventure of life». Chi avrà scritto questa canzone lo scoprirete solo seguendo il video, ma prima iniziamo come si deve, sigla! Cari amici di Milleunavventura, come sapete ogni tanto ci dilettiamo a esplorare che cosa l'intelligenza artificiale ci permette di fare al giorno d'oggi. antichi video del canale, sapete che abbiamo appena compiuto dieci anni sul canale di Milleunavventura, riportavano assolutamente sperimenti primordiali, ma adesso si possono, come sapete, fare cose incredibili che fino a pochi mesi fa non si pensava neppure di poter riuscire a fare. E allora in questo video andiamo a vedere varie cose, perché ho avuto accesso a vari strumenti, avevo richiesto l'accesso per esempio a un generatore di video basato sull'intelligenza artificiale e finalmente è arrivato, non mi ricordavo neanche più di aver chiesto l'accesso, finalmente è arrivato il via libera. Andiamo poi verso la fine del video a vedere a che punto siamo, però prima scopriamo altre cose. Infatti, ecco, vedete avventure in un mondo fantasy. Questo era l'ultimo nostro video che abbiamo pubblicato e sarebbe interessante mettere qui sotto non la trascrizione, la trascrizione era già fatta automaticamente da YouTube, ma mettere i capitoli. Sapete che su YouTube si può suddividere in capitoli il video per una maggiore facilità di accesso ai vari segmenti. E sarebbe tanto bello se l'intelligenza artificiale ce la generasse automaticamente. E allora, come sapete, ultimamente su Windows 11 è stato pubblicato Copilot, che è praticamente chat GPT-4, completamente gratuito, e anche associato a Copilot, oltre a chat GPT-4 per generare testi, c'è anche il DAL-I2, che genera immagini. Per esempio, io qui ho scritto un prompt, che adesso voi non vedete ma lo leggo io perché è piccolo, crea l'immagine di un cinquantenne calvo con baffi e occhiali che brinda perché il suo canale YouTube ha compiuto 10 anni. Vedete, siamo un po' autocelebrativi, visto che è un traguardo davvero importante per il canale, ne stiamo approfittando tantissimo. Ed ecco qui l'immagine che ha generato. Non so perché, avrete notato anche che molte copertine ultimamente le sto proprio generando con DAL-I2, anzi questo è DAL-I3 addirittura, non me ne ero accorto, questo è DAL-I3, quindi l'ultima versione disponibile, e avete notato che il nostro cinquantenne calvo con baffi e occhiali, anche nelle ultime copertine, ha sempre questi baffoni enormi. Non ho ancora capito quale frase scrivere per avere dei baffi un po' più sottili. Comunque vedete, sta brindando, sembra che stia brindando con una birra in un calice, molto particolare, e è saltato fuori questi 10 anni su questo dolce, e c'è anche una macchina fotografica, non si capisce perché. Comunque ha generato praticamente una possibile immagine, poi dato che potrebbe non piacerci, propone anche quest'altra, i baffi diventano sempre più grandi, c'è sempre una birra in un calice, e c'è il simbolo di YouTube, vedete qui sotto, questo non so che fischietto abbia in bocca, ogni tanto la generazione di immagini produce cose abbastanza inquietanti, come per esempio il fatto che qui ci siano sei dita, perché vedete, cinque dita da questa parte, una dall'altra. Non ho visto gli altri, ma questo sembra regolare, sì, questo è tutto a posto, e questo anche sembra regolare, ma sicuramente, se uno ci fa caso, compaiono cose strane in questi generatori di immagini, e poi vedete l'ultima immagine, insomma, la prima è quella più accettabile, questo è ultra cinquantenne e ha i baffoni enormi, quindi si potrebbe creare una copertina per un video in cui si vede il mio testimonial, il mio testimonial, non mi veniva la frase perché ovviamente non riesco ancora a farlo creare simile, non c'è ancora la possibilità su Copilot di inserire un'immagine e ottenere una variazione, ma ci sono in effetti altri generatori di immagini che si trovano sulla rete anche gratuitamente, che prendono anche la vostra immagine e la modificano. Comunque vedete, insomma, Copilot ha questa caratteristica, però, torniamo al punto dove eravamo e poi alla fine arriveremo ai video, vi piacerebbe dividere in capitoli questo video. E allora, proviamo, vado a proporre un nuovo argomento e qui in alto, vedete, compare generare epilogo video. In Copilot si può far vedere la pagina a fianco al nostro, diciamo, alla nostra intelligenza artificiale e se è stato generato un testo a partire da ciò che noi abbiamo detto, ecco, cliccando su genera riepilogo pagina, Copilot può creare la suddivisione in capitoli. Quindi molto interessante come cosa, e adesso la sta, vedete, dietro le mie spalle, sta facendo questa generazione di testo che riepiloga il video e sta scrivendo questo video presente al sito web di Avalas, un mondo fantasy in cui sono ambientati diversi tipi di videogiochi, avventure testuali, avventure grafiche, il video mostra alcuni esempi di questi giochi e ora sta facendo gli highlights, suddividendo in varie parti, quindi introduzione al sito, le storie interattive, le avventure testuali, le avventure grafiche, e poi, è arrivato l'undicesimo minuto, sta praticamente prendendo il testo della trascrizione che automaticamente YouTube propone, si va a leggere questo testo e propone il riassunto, che riescono a fare molto bene queste intelligenze artificiali generative. Mi pare che abbia finito, allora cosa si può fare? Lo possiamo selezionare tranquillamente, e poi vado su modifica video e qui su modifica video dove c'è la descrizione lo vado a inserire. Ecco questo video, presenta, eccetera, eccetera, tolgo highlights, lo formato come piace a me e qui metto 00 l'introduzione, al minuto 3 e 27 si parla delle storie interattive, dove si fanno vari esempi, al minuto 6 e 57 si parla delle avventure testuali, la saga di Avion, il druido nero, eccetera, poi ci sono le, vi ricordate, l'avventura grafica, se avete visto questo video, volevo mettere degli asterischi per formattare un po' meglio, la spada perduta e l'esempio di avventura grafica che abbiamo visto, e infine recensioni di avventure testuali classiche, ecco vedete, ho copiato tale e quale ciò che ha prodotto Copilot nella descrizione del video, ora vado a salvare e se vado, torniamo indietro al video, e vedete che adesso c'è la divisione in capitoli, introduzione al sito web, storie interattive, avventure testuali, eccetera, eccetera, avventure grafiche, recensioni, ecco è stata creata la suddivisione in capitoli e la descrizione del video, vedete quanto è bella adesso che è ben formatata, senza alcuna fatica, Copilot su Windows 11 e Edge, ecco ha fatto tutto il lavoro, e se andassimo a vedere è anche preciso, quindi non è che mette dei numeri a caso. Bene, abbiamo visto quindi Copilot a che punto è arrivato alla fine del 2023, generazione di testi di ogni tipo, abbiamo visto in passato addirittura avventure testuali create da questo sistema, oppure programmi creati da questo sistema, immagini grazie a DAL-E, e poi sempre in Copilot si potrebbe inserire questo suuno.ai che è un altro sistema che genera questa volta canzoni, canzoni, non siamo ancora arrivati ai video, i video li vedremo alla fine, praticamente su uno.ai crea canzoni col testo e lo stile che preferite sulla base di un di un prompt scritto, e vediamo qui, qui ci sono alcuni esempi, è facile, basta inserire un proprio account Google, quindi vogliono la registrazione per fare queste cose, ma le canzoni che sono generate le potete sentire anche senza registrarvi, quindi potete andare se non conoscete questo sito, magari vi sto dicendo tutte cose che già conoscete, perdonatemi, io sto facendo questo recap di fine anno e sono ovviamente tutte cose note, non è che abbia scoperto chissà che cosa, ci sono 50 crediti e li ho fatto generare tanto per restare in tema dieci anni del canale, due canzoni ha generato e mantiene il copyright su queste canzoni, quindi probabilmente poi il video potrebbe avere il copyright, ma vediamo, allora la prima canzone decade uncharted, non mi ricordo cosa vuol dire, il testo era una canzone rock per celebrare i dieci anni del canale youtube milleuna adventure, tanto per rimanere in inglese, allora la canzone generata dice abbiamo navigato attraverso il mare digitale per dieci anni, è stato un viaggio infernale, abbiamo scalato montagne, abbiamo attraversato la tempesta, milleuno avventure, eravamo nati per farle, e poi uncharted decade, siamo arrivati così lontano, cavalcando le onde di ogni chitarra, con ogni battito del cuore abbiamo inseguito i nostri sogni, attraverso alti e bassi siamo diventati una squadra, ma andiamo a sentire questo testo ovviamente in inglese come suona, spero che l'audio non sia troppo alto, parte la canzone che ha generato questo sito, dovrebbe essere, non è che c'era qualcuno lì dietro che ha cantato, è stato generato dal sistema. a Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Più o meno il tema è sempre lo stesso e poi il coro dice oh mille e una avventure, siamo diventati forti, dieci anni di viaggi epici, mai sbagliato nulla, abbiamo scalato le montagne, abbiamo navigato attraverso i mari, sempre pronti per la prossima sfida, per diciamo completare, per rendere reali i nostri sogni, oh yeah! Andiamo a sentire anche questa, vediamo se è un po' diversa... Grazie per la visione! Grazie per la visione! Preferisco forse la prima perché io ce l'ho molto alta nelle cuffie e quindi era un po' esagerata la precedente, questa qui... Ma finalmente andiamo a vedere un nuovo tipo di magia, avevo chiesto l'accesso a questo pica.art e poi è arrivata l'email proprio stamattina e a quanto pare avevamo già visto qualcosa del genere, un generatore di immagini non era stato granché, praticamente con una frase viene generato pochi secondi di video. Ecco, vedete, ci sono degli esempi di immagini, anche qui bisogna registrarsi, mi sono registrato con Google, però si accede a una wait list, una lista d'attesa che quindi richiede un po' di tempo, a me sembra almeno tre settimane devono essere passate, andiamo a vedere cosa ho prodotto. Ecco, vedete di nuovo il tizio coi baffi. Allora, il primo che ho tentato di produrre è un elfo dei boschi che scaglia una freccia contro un ant e vedete che c'è questo elfo effettivamente con tre braccia purtroppo, poi c'è un arco a destra, un arco a sinistra, forse non lo vedete ma proviamo a ingrandire un po'. C'è sempre questo tizio qua, ecco andiamo a vedere. Sì, effettivamente c'è un elfo, ci sono queste tre braccia che stanno malissimo, un arco al contrario, l'ent, l'albero enorme non lo vedo, potrebbe essere questo qui davanti, quindi diciamo che questa prima cosa non è venuta benissimo. Poi qui invece ho messo un cinquantenne calvo con baffi e occhiali che gioca su un Commodore 64 su una, di fronte a un monitor a fosfori verdi, ed è saltata fuori questa roba qui. Quindi il cinquantenne con i baffi e gli occhiali calvo direi che ci sta, il Commodore 64 potrebbe essere quella strana tastiera lì in basso, il monitor a fosfori verdi, è lasciato un po' la fantasia, però dietro c'è lo schermo, il green screen, quindi chissà, e vedete è molto breve questo filmato. Deve essere evidentemente perfezionato oppure bisogna in qualche modo pagare per avere più tempo macchina, chissà. Comunque qualcosa sta nascendo, è già meglio di quello che avevo visto qualche tempo fa. Ora direi qui, tanto per provare e consumare gli ultimi crediti, proviamo a inventarci una nuova storia, quindi proviamo a scrivere una meteora che cade nell'oceano. Vediamo una meteora che cade nell'oceano, andiamo a vedere quanto ci mette. Ci mette un po', adesso non so, eccola qui. Vedete il tuo video sta per essere generato e ci vuole, siamo già però al 10%, sta diventando più rapido, però è fermo all'11%, scopriremo tra poco quanto ci mette, ma 12%, direi di tagliare un attimo, poi vi dico quanto ci ha messo. Ci ha messo un paio di minuti, qui vedo tanto fu, tant'acqua sollevata, adesso vediamola in azione. Ecco, non si è vista la meteora, forse si vede un sottile sbuffo di fumo sopra e poi questa enorme quantità d'acqua che si solleva, sembra più un gasdotto che viene fatto esplodere, però ecco, questi pochi secondi di filmato rappresentano una meteora che cade nell'oceano. Va perfezionato ancora un po', ma intanto l'oceano c'è, l'esplosione, l'acqua sollevata c'è, quindi in effetti non ci si può lamentare. Ecco, nel caso non sia venuto bene, si può tentare con retry, qui si può ripetere e vedere se magari l'effetto migliora. e qui probabilmente sarebbe meglio fare un retry perché il nostro elfo non è venuto molto bene. Ecco, dopo la solita attesa di qualche minuto viene generata questa immagine, ma adesso la vediamo in movimento. Non è che faccia granché, muove un po' le labbra, però la freccia non la scaglia in effetti. Va migliorato oppure bisogna spenderci qualcosa in più. Beh, direi che abbiamo visto tutte queste caratteristiche dell'intelligenza artificiale generativa a fine del 2023. Testi, immagini, video, canzoni. Di tutto di più. chissà cosa ci riserverà il 2024. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!